Risposta alla critica sulla non esistenza dei giudizi sintetici a priori. La metafisica, secondo Kant, non è una scienza al pari della matematica e della geometria e della fisica. La metafisica può solo pensare, per esempio, può solo pensare Dio ma non conoscerlo. Il giudizio sintetico a priori in metafisica è vuoto, non è trascendentale come nella matematica e nella fisica. Quindi, in senso proprio, i giudizi sintetici a priori in metafisica non sono conoscenza, non esistono, sono pensiero. Cioè io posso pensare Dio ma non sono in grado di emettere un giudizio sintetico a priori su Dio che sia anche conoscenza del fenomeno.